Voto fluido e incerto. Nuovo sondaggio dell'Istituto Demopolis a quattro settimane dal referendum costituzionale. Sequestrati due pescherecci, il Ghibli 1 e Giulia Pigi di Mazzara del Vallo sono finiti nelle mani delle autorità egiziane. Diplomazia già in movimento per il rilascio. Chiamateci due spot della polizia per mettere in guardia gli anziani, vittime designate dai truffatori. San Vito al teatro Alvia, la rassegna invernale 2016-2017 curata dall'associazione Sound Italiano. E per lo sport e testa a Perugia, il difensore del Trapani Calcio Simone Rizzato ha analizzato il momento della squadra con i pensieri rivolti al prossimo impegno. In diretta con la nostra seconda edizione del Tg, il nuovo sondaggio dell'Istituto Demopolis a quattro settimane dal referendum costituzionale. Dall'analisi emerge un voto sempre più fluido e incerto. Resta bassa la percentuale di italiani che dichiara di aver compreso i cambiamenti previsti dalla riforma costituzionale. No, in lieve vantaggio. E' altissimo il numero degli indecisi in un voto che, secondo l'analisi dell'Istituto diretto da Pietro Vento, appare sempre più condizionato dalla polarizzazione sulla figura di Matteo Renzi. A meno di quattro settimane dal referendum, secondo il sondaggio condotto dall'Istituto Demopolis, resta bassa la percentuale di italiani che dichiara di aver compreso i cambiamenti previsti dalla riforma costituzionale. Poco più di un cittadino su dieci afferma di conoscerla pienamente, il 42%, a grandi linee. Un terzo dei cittadini, ha spiegato il direttore di Demopolis, Pietro Vento, ammette di averne solo sentito parlare, mentre il 14% confessa di non saperne nulla. Non sembra creare grande passione la sfida referendaria che peserà sul futuro volto politico e istituzionale del Paese. Se la consultazione si tenesse oggi con un'affluenza e lieve crescita al 54%, il 26% degli elettori non saprebbe ancora come votare. Quasi il 36% opterebbe per il sì. Poco più del 38% sceglierebbe il no. In lieve vantaggio a 28 giorni dall'apertura delle urne. Il no cresce al sud e in Sicilia. Secondo l'analisi effettuata da Demopolis per il programma 8,5 sulla 7, ripercentualizzando i dati in proiezione elettorale in assenza di quanti non hanno ancora deciso, il 48,5% confermerebbe la riforma. Il 51,5% la boccerebbe. Con oltre un quarto di elettori incerti, la forbice stimata oggi da Demopolis oscilla tra il 45% e il 52% per il sì e tra il 48% e il 55% per il no. Il trend tracciato negli ultimi mesi, come rimarcato dal direttore di Demopolis, Pietro Vento, conferma ampiamente l'incertezza e la fluidità di un voto che appare sempre più condizionato dalla polarizzazione sulla figura di Renzi. Il sì perde 10 punti da aprile ad agosto, passando dal 58% al 48%, risale poco sopra il 50% all'indomani dell'annuncio da parte del Governo di alcune misure della legge di stabilità, dall'aumento per le pensioni sotto i 1.000 euro alla riforma di Equitalia, per tornare oggi al 48,5%. L'opinione pubblica, secondo la fotografia scattata dall'Istituto Demopolis, a quattro settimane dal voto, resta di fatto spaccata a metà, con il no, il leggero vantaggio. A Trapani, prima dorsale ZIR, numero 3. E' venuta a mancare stamane la signora Maria Solina Dalì, madre del senatore Antonio Dalì. I funerali saranno celebrati domani alle ore 15 nella chiesa di San Pietro a Trapani. La signora aveva 96 anni. Alla famiglia Dalì vanno le condoglianze del presidente, del direttore e di tutto il gruppo editoriale di Telesud. Adesso la cronaca. Due pescherecci mazzaresi sono stati sequestrati nella notte. Ed ora è corsa al tempo per il loro rilascio. Il Gribi Primo e il Giulia Pg, due pescherecci di Mazzara del Vallo, sono stati sequestrati nella notte e condotti al porto di Alessandria, in Egitto. A bordo 14 componenti di equipaggio, 8 italiani e 6 tunisini. Secondo una prima sommaria ricostruzione della vicenda, il sequestro dei due pescherecci è avvenuto intorno alle 22 di ieri sera, circa 28 miglia dalle coste egiziane, mentre erano impegnati in una battuta di pesca dai militari della Marina Egiziana che sono saliti a bordo, costringendo le imbarcazioni a fare rotta verso il porto di Alessandria d'Egitto. A seguire gli sviluppi del sequestro è la responsabile del distretto della pesca di Mazzara, Giovanni Tumbiolo, che ha già preso contatti con il governo regionale e il governo nazionale. Il glibi era già stato sequestrato dagli egiziani circa 4 anni fa. Il Giulia Pigi invece fu sequestrato insieme al Daniela L nell'ottobre 2013 dai miliziani di Bengasi che li avevano bloccati a circa 40 miglia a largo delle coste cirenaiche. Per il rilascio l'armatore ha dovuto affrontare due processi e pagare un riscatto. Il Daniela L è ancora sotto sequestro da parte dei libici. Prosegue senza sosta l'impegno della Polizia di Stato contro il fenomeno delle truffe agli anziani attraverso la campagna Non Siete Soli, Chiamateci Sempre. Due spot ideati da Gianni Politi con la collaborazione degli attori Fabiana Latini e Giovanni Platania sono stati realizzati per mettere in guardia le persone anziane vittime designate dei truffatori. Nei trailers sono state mostrate le truffe più ricorrenti come ad esempio quelle tra le mura domestiche in cui i malfattori si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine o per tecnici del gas. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini ad essere cauti quando alla porta si presentano sconosciuto. Il messaggio che viene lanciato è semplice e preciso. Abbiate maggiore prudenza e chiamate la polizia. Sono purtroppo ancora tanti gli episodi in cui i cittadini over 65 sono avvicinati e raggirati. I casi registrati infatti a livello nazionale mostrano un aumento del 19% nel primo semestre del 2016 rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente. In Sicilia invece sembra registrarsi un lieve decremento del dato considerato che nell'intervallo di tempo compreso tra gennaio e agosto del 2016 sono stati rilevati 529 casi a fronte dei 565 dello stesso periodo dell'anno precedente con una diminuzione in termini percentuali pari al 6,37%. Questo anche grazie alle campagne di sensibilizzazione portate avanti dalla Polizia di Stato che hanno prodotto due effetti positivi. Il primo è che gli anziani adesso sono sempre più informati riguardo ai raggiri di cui possono rimanere vittime e sempre più spesso riescono loro stessi a sventare le truffe. Il secondo consiste in una cresciuta consapevolezza del fenomeno da parte dei cittadini che adesso hanno una maggiore capacità di reazione e denunciano questi reati riducendo il sommerso e rendendo possibili le azioni repressive. Un arresto per droga è stato eseguito dai carabinieri di Mazzara del Vallo I carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo nella giornata di ieri hanno arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Michele Giacalone di 26 anni Nel corso di una perquisizione eseguita nell'abitazione dell'indagato i militari dell'alma avrebbero rinvenuto 580 grammi di marijuana nonché tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Dopo le formalità di rito Michele Giacalone, residente a Mazzara del Vallo è stato tradotto nelle carceri di Trapani a disposizione dell'autorità giudiziaria. Frattanto prosegue senza soluzione di continuità la lotta da parte dei carabinieri di Mazzara del Vallo allo smercio di sostanze stupefacenti fenomeno ben radicato nel territorio nonostante l'incalzare delle forze dell'ordine e della magistratura. Il mio papà apre le porte con la forza del pensiero lo giuro con il nuovo Kia Sportage tutto è straordinario e riesci a trovare posti che non conosce nessun altro nuovo Kia Sportage nato per stupire scoprilo in concessionaria Automondo Per informazioni rivolgersi all'ufficio tecnico SMEPA via Marconi 214 casa Santa Erice io elettrodomestici da incasso e le super offerte kit completo quattro pezzi da 350 euro lavabiancheria classe A più da 199 lavabiancheria Grundig 8 kg motore inverter da 369 piani cottura da 89 e in più consegne sopra luogo gratuiti io elettrodomestici da incasso via Marsala a Trapani e da oggi anche incontrata San Giuseppe Taffalì a Marsala Anzio e a cena il boccone di Aziz a Trapani in via Palmerio Abate di fianco alla Villa Margherita domani dalle 9 alle 14 al Polo Universitario di Trapani si terrà un seminario dal titolo strumenti d'opportunità europee per le piccole e medie imprese indirizzi e buone pratiche l'evento è organizzato dallo Europe Direct e patrocinato dall'assessorato regionale alle attività produttive proseguono invece le iniziative del Polo Accademico Unicusano di Trapani volte all'apertura della sede universitaria al territorio Dai un posto alla cultura è il tema della nuova idea lanciata da Unicusano che mette a disposizione 10 metri della propria struttura in via Prima Dorsale Zir 3 a Trapani per ospitare libri e librerie per ulteriori informazioni scrivete una mail a ufficio stampaunicusano tp-gmail.com A Vicenza una delegazione del scende rotissiere in salda ai rapporti enogastronomici fra la cucina siciliana e quella veneta già ospitata a Trapani nello scorso mese di marzo per l'occasione sarà presentato il canolo dell'amicizia ripieno con baccalà ricotta e pistacchi Noi facciamo parte di questa bella realtà trapanese che in Sicilia riconosce solo due delegazioni quella di Trapani e quella di Palermo l'obiettivo della scena è proprio quella di stare in comunione seduti a tavola attorno a dei buoni cibi soprattutto nel nostro caso siciliani di tipica cultura cucina siciliana e che vuole anche fare un po' di cultura dal punto di vista della storia dei cibi siciliani tant'è vero che questi tre giorni che ci caratterizzeranno l'11, 12 e il 13 novembre avranno come diciamo momento di incontro formativo quello del 12 dove ci si terrà un convegno nella più grande biblioteca enogastronomica di Europa e che vedrà me come relatore insieme a Filippo Salerno come agronomo lì parleremo proprio della storia del cibo siciliano con una bella presenza anche sulla un accenno sulla dieta mediterranea a proposito dei cibi ascoltiamo lo chef quali saranno i cibi che rappresenteranno la Sicilia e la nostra provincia in questa occasione i cibi che rappresentano la Sicilia saranno tantissimi sicuramente produtteremo i nostri prodotti i nostri prodotti tipici durante il confegno ovviamente presenteremo del cibo di strada le panelle ai cazzilli alle caponatine non mancheranno i dolci di San Martino che siamo in tema ai dolci di mandorola alla frutta di martorana diciamo che stiamo tutto in tema alle timpanette e alle arancinette tutto questo qua è tutto cibo di strada ai pane della salute offerteci dalla ditta Martinez e saremo a cucinare tutto questo buffet io e il mio collega Peppe Buffa un confronto per informare i rappresentanti del sindacato e i lavoratori sulla motivazione alla base del sì e del no al voto per il referendum sulla riforma costituzionale del prossimo 4 dicembre a promuovere la tavola rotonda opinioni a confronto e la CISL Palermo Trapani l'appuntamento è per domani pomeriggio dalle 15 nella sala Limuli di Palazzo Riccio di Morana a Trapani alla presenza dei rappresentanti locali e regionali e nazionali del sindacato e parlamentari siciliani e nazionali per il sì e per il no ad aprire lavori sarà Daniela De Luca segretario CISL Palermo Trapani e i saluti saranno invece del sindaco di Trapani Vito Damiano e restiamo sempre in materia di referendum domani pomeriggio alle 17 a Trapani all'Accademia di Belle Arti si terrà un convegno dibattito sulle ragioni del sì e del no l'iniziativa è promossa dall'associazione Senso Civico con le associazioni universitarie Alfa Omega e Unitrapani all'evento prenderanno parte tra gli altri i professori Giovanni Guzzetta docente di diritto costituzionale all'Università Torvergata di Roma e Gaetano Armao docente di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Palermo hotspot pratiche di accoglienza e punti di crisi fra le rotte del Mediterraneo è il tema del convegno che si terrà il prossimo 18-19 novembre a Trapani al centro polifunzionale per l'integrazione degli immigrati incontrata da Cippo Neri l'iniziativa è promossa dall'Università degli Studi di Palermo e in collaborazione con la cooperativa Badia Grande l'evento formativo è rivolto agli assistenti sociali agli educatori a psicologi a tutti gli esperti che operano nell'ambito dell'immigrazione nonché a tutti gli studenti del corso di laurea in scienze del servizio sociale in quanto l'evento formativo è stato riconosciuto dal Croas della regione Sicilia quindi per tutti gli assistenti sociali vi sarà un riconoscimento professionale di 10 crediti formativi e per gli studenti del corso di laurea in scienze del servizio sociale verranno invece riconosciuti i crediti formativi proprio specifici come avviene l'iscrizione dove si possono prendere informazioni? le iscrizioni avvengono tramite la compilazione online di un modulo che si può trovare presso il sito internet della cooperativa sociale Badia Grande quindi www.societacooperative.org il costo è di 15 euro per contributo spese il costo è solamente perché l'evento si svilupperà in due giornate il giorno 18 che avrà una giornata formativa più convenialistica quindi che prevede la presenza anche di diverse autorità locali il giorno 19 invece che è proprio l'evento formativo quindi una giornata di studio di formazione e quindi i 15 euro vengono per la partecipazione sono previsti per la partecipazione alla giornata formativa si sono aperte le iscrizioni al primo corso di avvicinamento alla montagna organizzato dalla sezione CAI di Palermo in collaborazione con il gruppo 8 escursionismo e il presidio CAI di Erice e i comuni dell'Agro Ricino sono previste lezioni teoriche con diverse nozioni formative uscite nei monti del Trapanese sperimentando diverse tipologie di escursione con diversi gradi di difficoltà l'iniziativa ha lo scopo di fare acquisire ai partecipanti iscritti al CAI la consapevolezza di quanto sia importante frequentare la montagna con un adeguato patrimonio di competenze ed esperienze per iscriversi al corso è necessario richiedere tramite mail all'indirizzo caiagroricino chiocciolagmail.com il modulo di adesione inviando la domanda è detto il 20 di novembre per maggiori informazioni visitate la pagina Facebook del presidio CAI di Erice nell'ambito invece dell'omaggio a Ludovico Ariosto nei 500 anni della pubblicazione dell'Orlando Furioso sabato 19 domenica 20 di novembre alle 21 negli spazi della chiesa di Sant'Alberto a Trapani andrà in scena rappresentata per la prima volta in città Alcina di Endel uno dei capolavori assoluti del teatro musicale barocco la produzione targata Ente Luglio musicale trapanese vede coinvolti l'orchestra da camera dell'ente e la regia di Maria Paola Viano apprezzata dal pubblico trapanese nella produzione lirica degli ultimi anni con l'Orlando anche in questa occasione un cast di specialisti affermati in questo particolare ambito del repertorio Alvia invece a San Vitolo Capo la rassegna invernale 2016-2017 17 appuntamenti con il teatro il cabaret la musica e la cultura popolare questa la proposta che l'amministrazione sanvitese presenta ai residenti e agli auspicati turisti per tutto il periodo invernale dal 13 di novembre al 26 marzo la sede è quella deputata il teatro comunale presso il centro polivalente alle porte del paese un programma variegato interessante di notevole spessore culturale ha detto il sindaco Matteo Rizzo dicendosi certo che i sanvitesi e non solo loro lo apprezzeranno molto sperando quindi che questi appuntamenti saranno occasione per i turisti e i villeggianti anche per rivedere e apprezzare nei mesi invernali il paese il 13 novembre la rassegna San Vito a teatro si aprirà con San Giovanni De Collato a cura dell'associazione Piccolo Teatro Le Scale e sempre in questo mese verranno messi in scena U Figlio Mascolo 20 novembre Associazione Crucivie 90 e Miserie Nobiltà 27 novembre Filodrammatica Fulgatore puntiamo molto sul teatro siciliano affidato a compagnie locali che meritano di essere apprezzate ha sottolineato l'assessore alla cultura Maria Cusenza assicurando che non mancheranno appuntamenti rivolti allo spettacolo senza caratterizzazioni regionali la rassegna è curata dall'associazione Sound Italiano il programma degli spettacoli si può consultare sul nostro sito web all'indirizzo telesurdu3.com Lo sport, il calcio oggi seduta pomeridiana per il Trapani allenamenti fino a sabato con partita domenica alle 15 ospite di Sportsud lunedì il difensore Simone Rizzato ha analizzato il momento della squadra sono passate 13 partite abbiamo fatto una vittoria abbiamo giocato un po' tutti quindi penso che noi siamo i primi responsabili altrimenti ci troviamo alibi e in questo momento gli alibi servono a poco e sicuramente non ci aiutano a uscire da questa situazione che in questo momento è difficile e magari non si vede la luce però non è impossibile dentro di noi ci sentiamo quelli dell'anno scorso però se i risultati sono questi si vede che non basta quello che stiamo facendo fino a questo momento la risposta non so dartela altrimenti già l'avremo risolta attraverso le prestazioni attraverso il campo quello che posso dirti di sicuro è che questa situazione ci fa star male anche a noi la viviamo in maniera negativa e sappiamo che dobbiamo trovarne una soluzione il prima possibile guarda qualsiasi parola detta in questo momento secondo me viene presa anche come una presa in giro per come sono fatto io perché alla fine abbiamo nove punti in classifica siamo ultimi e quindi più che le parole dobbiamo dimostrare qualcos'altro ti dico sono passati appena cinque mesi e diciamo che in questo momento siamo passati dalle stelle alle stalle però purtroppo è questa la situazione e forse in questo momento prima di essere calciatori dobbiamo dimostrare di essere uomini ma io credo che lo siamo e adesso abbiamo ovviamente poco tempo per dimostrarlo questi due giorni liberi sono stati duri infatti per fortuna domani ricominciamo ad allenarci perché quando ti alleni incominciare la prossima partita e ti togli le scorie negative che che lascia questa partita col Vicenza perché è inutile negarlo ma è stata una sconfitta pesante e quindi da domani testa il Perugia senza fare proclami di nessun genere perché questo momento penso che non sia il momento dei proclami e aspettiamo la partita di domenica e ad arbitrare Perugia Trapani sarà Antonio Di Martino di Teramo assistenti di gara Marco Citro di Battipaglia e Dario Cecconi di Empoli il quarto ufficiale Niccolò Pagliardini di Arezzo e adesso invece il basket è doppia seduta invece di allenamento per la pallacanestro Trapani domenica la trasferta di Tortona un passo avanti e uno indietro la pallacanestro Trapani non è ancora riuscita a trovare continuità nella partita contro Ferentino tutti i tasselli sono andati al posto giusto col manno delle lacune evidenziate nelle partite precedenti la difesa la circolazione di palla il gioco di squadra la concentrazione e l'intensità contro Treviglio questo è mancato la partita ha evidenziato che ancora dobbiamo migliorare in tante cose prima fra tutte la capacità di mantenere alto il livello di concentrazione per l'intero arco del match ha detto Riccardo Tavernelli abbiamo giocato un terzo periodo disastroso e poi non siamo riusciti a rientrare contro Tortona siamo chiamati alla seconda trasferta consecutiva giocheremo contro la prima della classe una squadra che finora si è dimostrata compatta e solida e dovremo essere bravi ad imporre il nostro gioco per non permettere loro di entrare in ritmo intanto scongiurato l'infortunio grave Capitan Fijoia le prese con una forte distorsione alla caviglia domani coach Ducarello insieme al playmaker Claudio Tommasini parleranno in conferenza stampa per presentare la prossima sfida e adesso gli appuntamenti su Tele Sud questa sera alle 20.30 alle 23 in Agorà Wolli Cammereri ospita il sindaco di Paceco Biagio Martorana il direttore delle Terme di Cervia Aldo Ferruzzi il salinaio Carmelo Culcasi e Peppe Carpinteri dell'associazione Salviamo i Mulini argomento la possibile sinergia tra saline e terme invece alle 21.30 a mezzanotte e 30 per Babele le grandi storie ospite di Enzo Tartamella Giacomo Augugliaro giovane trapanese che si è trasferito a Mosca adesso per noi pubblicità ma torniamo qui in diretta con la nostra seconda edizione del Tg Giacomo Augugliaro 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 Grazie a tutti